Buongiorno Ma ci vedremo A meno 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 Ma che sta succedendo? Che facciamo? Che facciamo? A meno Che succede guapo Co-chi pra 2 2 3 La Vos 2 3 e 4 A meno 1 1 sono giù di fin è che ci contano pari che non ci sono a me sei mai guantà se uscela muovono quando cantava La storia, la storia, la storia, la storia. La storia, la storia, la storia, la storia. La storia, la storia, la storia, la storia. La storia, la storia, la storia. La storia, la storia, la storia. La storia, la storia, la storia.